Numero 19 Francesco Rosso Numero 8 Dodo Stiamo Numero 6 Andrea Cresciuno Numero 5 Andrea Piozza Numero 7 Andrea Poi Con numero 20 Vittorio Felipe De Santos Numero 9 Adolfo Ferracci Nel numero 10 Capitano Agio Alpepone E con numero 24 Eugenio D'Ambrea A disposizione Aurelio Carmonio Cannone Carmonio Rosso Samparelli Crescente e la carta Un sereno particolare più la dirigenza è il mister Arita Un sereno particolare più la dirigenza è il misterio Un sereno particolare più la dirigenza è il misterio Un sereno particolare più la dirigenza è il misterio Un sereno particolare più la dirigenza è il misterio Un sereno particolare più la dirigenza è il misterio Un sereno particolare più la dirigenza è il misterio In queste giornate come sapete in difesa della memoria La leva nazionale di lettanti ricorda tutte le vittime innocenti Che in seguito alla deportazione senza colpa Persero la vita nei campi di concentramento Treni carichi di uomini e donne e bambini partirono per non tumore più Dando inizio a una delle pagine più ignobili della storia dell'umanità Difendiamo la memoria affinché le nuove generazioni non dimentichino Perché quelli che vi ricordano il passaggio sono appuntamenti a ripetere Ringraziamo anche la Lega per questo importante comunicato Buon incontro a tutti Buon incontro a tutti Grazie a tutti Buon incontro 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 a tutti